Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non potrà contare neanche domani su Jabois, il pescara di Zeman che all'Adriatico con inizio alle 14.30 affronterà la Turris. Il centrocampista Biancazzurro è ancora alle prese con l'infortunio che gli ha impedito finora di entrare nel sistema di gioco dell'allenatore boemo che questa settimana ha sottoposto i ragazzi alle consuete doppie sedute di allenamento. Oltre al turno infrasettimanale di Messina che ha portato la prima sconfitta della gestione Zeman. Non ci sarà neanche il difensore Cancellotti, anche lui infortunato con la lesione al polpaccio rimediata a Messina. Al suo posto giocherà Crescensi, c'è voglia di riscatto per la formazione biancazzurra che a sei giornate dal termine della fase regolare punta a mantenere il terzo posto al momento in coabitazione con il Foggia che però ha una migliore differenza reti. Ma i pugliesi in questo turno se la vedranno con un'avversaria difficile in trasferta con il Cerignola che insegue il Foggia e il Pescara a meno 4. Il Pescara proverà ad allungare con il rientro di Raffià che ha scontato la squalifica e con la Gelbison era stato tra i migliori in campo. Potrebbe essere lui a far vedere qualcosa di Zemaniano dopo la brutta gara di Messina in cui Raffià era assente e nella quale il Pescara non ha quasi mai tirato in porta. Nel nuovo ruolo di Mezzala cucitogli addosso dal tecnico Boemo ha fatto la differenza. Mercoledì il Franco Turisino comincia però il Ramadan con il digiuno che durerà un mese. Il playmaker sarà invece di nuovo Palmiero che è la vera novità del Pescara targato Zeman che domani vuole dimenticare Messina contro la squadra Laturris degli ex Maniero che con Zeman vinse il campionato nel 2012 è frascatore. I campani sono in serie positiva, hanno la peggior difesa del campionato ma con l'allenatore Fontana hanno conquistato 14 punti e subita una sola rete nelle ultime quattro partite.